Due aggressioni di inaudita violenza nel giro di 24 ore si sono consumate fra Gabicce Mare e Fermignano. Due persone sono ora ricoverate in ospedale e nel caso di Gabicce la vicenda ha prodotto due arresti per tentato omicidio, mentre nel caso di Fermignano ha prodotto una caccia all'uomo. Quella dell'automobilista che all'alba di questa mattina ha tentato di investire con l'auto per poi aggredire a martellate, Matteo Bastianelli, direttore del CONA di Fermignano. Alle 6.40 di mattina il 46enne avrebbe inveito contro un'auto passata col semaforo rosso che ha rischiato di travolgere il direttore del CONAD mentre attraversava la strada. Per tutta risposta l'automobilista è tornato indietro e ha cercato di investire lo stesso Bastianelli, dopodiché è sceso dall'auto con in mano un martello e ha cominciato a colpirlo con violente martellate. Sono accorsi sul posto degli operai di Marche Multiservizi che hanno indotto l'aggressore a risalire in macchina e a darsi alla fuga. Segnalata l'auto ai carabiniere, partita la caccia all'uomo che è stato individuato. Bastianelli è ricoverato all'ospedale di Urbino con un trauma cranico e varie echimosi, ma non è in pericolo di vita. Da Fermignano a Gabiccia è invece ricoverato in ospedale in prognosi riservata Pasquale Marzocchi, 52enne napoletano residente nella stessa Gabiccia, trovato a terra sanguinante a lune e trenta della notte fra sabato e domenica, non lontano dal municipio. Marzocchi è stato vittima di una brutale aggressione con accoltellamento in cui ha rimediato la perforazione della milfe di un gluteo, oltre alla rottura di alcune costole del setto nasale. Sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio due fratelli di 39 e 34 anni, anch'essi campani residenti nel territorio. I carabinieri li hanno individuati al pronto soccorso di Cattolica per curarsi da ferite riportate in una presunta collutazione. Sono scattate le manette, ma i due hanno riferito di aver agito per legittima difesa. Secondo le indagini ci sarebbe però un movente legato a questione di soldi alla base dell'aggressione.